Da Marassi a Marassi, nove gare dopo, dal tiro di Bruno Fernandes alla sfida contro la Genoa. Una settimana di lavoro dura, intensa, pochi sorrisi e tanta concentrazione. Il Palermo è pronto per il match di domani sera, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Ottenere a Genova un risultato positivo significherebbe arrivare con grande slancio al match con Pescara di giovedì sera. Ultima sfida che chiuderà il 2016 rosa-nero. Una gara, quella di domani, che Eugenio Corini in conferenza stampa ha presentato così. Sappiamo che il Genoa è una squadra importante, sappiamo che il Genoa è una squadra che dà il meglio di sé in casa, ma noi dobbiamo avere la forza, la consapevolezza, come è stata la gara di Firenze, che se facciamo battaglia, se abbiamo la capacità di sapere dove attaccare nei momenti importanti della gara, possiamo fare un'ottima prestazione e portare a casa dei punti. E questo ci permetterebbe poi di affrontare una finale che è quella che è, e non è un termine finale come si dice sempre, le ultime partite di campionato sono finali. Gli sconti diretti quest'anno lo sono sempre stati importanti. In questo campionato lo saranno determinanti. Corini recupera anche Bentivegna oltre a Traikoschi, ma perde Embalo a causa di una sindrome influenzale. Dall'altra parte invece c'è un Genoa carico dopo il successo infrasettimanale contro la Fiorentina nel recupero della terza giornata. Nove gare dopo il Palermo torna a Marassi. Il 2 ottobre la sfida alla Sampdoria, con Bruno Fernandes che al 93esimo negò la gioia del successo ai rosa nero. Un gol mai digerito, un incantesimo, fino ad ora mai spezzato. Da Marassi a Marassi, ecco l'occasione giusta per ripartire.